in questo nuovo video oggi possiamo vedere come io e i miei fratelli hanno decorato la stanza dei miei fratelli potete vedere che ci sono le skype qua e per qui tutte ragnatele quando ho mandato lo scorso video cioè ieri il video con quelle poche ragnatele lì era un po l'iniziativa possiamo dire qua come potete vedere qua ci sono accumuli di ragnatele che ovviamente questo qua verrà sistemato da un'altra parte poi con gli outwings del mio fratello vi ricordate quando ho fatto il video di quella lì abbiamo messo le ragnatele abbiamo fatto le ragnatele e l'abbiamo usato per un supporto e qui potete vedere la pista dello squalo che è pieno di ragnatele ecco queste nuove ragnatele con uno scheletrino incastrato qui e altri incastrati in giro potete vedere eccolo ho trovato un altro qui e poi abbiamo creato una macchina dell'orrore che fa così e adesso non so perché non va ok è andato più o meno qui ragnatele un po in giro vedete qualche roba e possiamo passarci pure di sotto guardate a guardando da sotto le ragnatele ragazzi ora è meglio uscire perché qui sono amici mi riempio di ragnatele guardate la e poi guardate lì poi tutta una barriera di scheletri e bellissimo come non decorato quest'anno la camera dei miei fratelli però vi farò vedere un po un po in giro e dopo possiamo come possiamo dire un pochino aggiunto che ho aggiunto anche un po di ragnatele in camera mia insieme ad altre decorazioni insieme ad altre decorazioni e ci vediamo tra un po bene questa questa qui è la camera dei miei fratelli lasciate un like se vi piace commentate con ai stag è bella la camera dei tuoi fratelli ora andiamo a vedere come ho messo un po di ragnatele anch'io alla mia camera e ora non ho proprio finito ma ecco come sono un po sistemato in camera mia potete vedere ragnatele che arrivano da lì guardate fanno lì poi arrivano la e qua c'è un filo trasparentissimo che collega a questa moto e potete vedere guardate lo scatto premobili se lo ricordate ecco appeso qui abbiamo un ragnetto non si vede dalla telecamera ma non lo vedo anch'io da qui si vede abbiamo il ragnetto qui abbiamo uno schietro e dovremo avere un altro schietro ecco lì guardate qua com'è se vi ricordate qua c'è lui con i topi sulla spalla abbiamo di nuovo scali il nostro cimitero maschera l'ho tolta perché era usato per fare un certo scherzetto quella lì per cui potete vedere ecco guardate qualche roba beh se vi piace mettete un pollice e commentate con ai stag è bella la camera dei tuoi fratelli ai stag è bella la camera tua ok per questo video abbiamo finito e ci vediamo al prossimo video ciao